La signora sentirà dei rumori durante l'esibizione a tac, diciamo. Hai sentito? È andato bene. Non lo so. Poi è possibile. Apri i rumori, sentiamo. Hai sentito? Ma è così, ogni tac, ogni hospital è così. Andiamo, sì o no? Ma hai usato, eh. Sì, l'abbiamo presa da un centro per anziani, usato. Sono sempre gli stessi rumori. Sta andando, sta andando, sta andando, sta andando. Mamma mia, la stanchezza assai. Io un po' di vacanza me la devo prendere, no? Dottore, lei preferisce il mare o la montagna? Sai cos'è tante volte? Tu magari vai in montagna, e in quel caso vuol dire che la vacanza al mare è andata a monte, quindi... ... ... ... ... ... ...